Non possiamo dare spazio a chi adotta, come dire, lo stile stracciarola. Ecco, lo stile stracciarola è fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti, perché servono a distrarre l'opinione pubblica dai problemi concreti. Noi abbiamo un solo obiettivo in Campania, è l'obiettivo di lavorare in pace, lavorare in pace per le nostre comunità.